Alessio Buttecchiari, uno dei consiglieri del Camerino Castellamondo, prima Nuova Camers, è nata qui la storia di questa squadra in terza e poi il sogno continua perché si è rimasto anche in quest'altra società. Ovviamente abbiamo voluto dare continuità ai nostri dieci anni di Nuova Camers come realtà di Camerino e realtà sociale per i ragazzi che hanno piacere di giocare al calcio e di farlo in maniera genuina con degli impianti sportivi che abbiamo a Camerino che sono all'altezza di qualsiasi tipo di categoria. Noi siamo la più bassa ma non per questo non ci impegniamo per raggiungere migliori risultati. Continuiamo con l'SD Camerino Castellamondo da due anni un po' difficili ma il progetto è simile a quello della Nuova Camers in più valorizzato da un settore giovanile importante per il nostro territorio e siamo a supporto di questa realtà con dei ragazzi per costruire una prima squadra dove tutti i ragazzi potranno alla fine poter giocare ed è un sogno poter fare anche categorie più importanti rispetto a questa. Si punta la promozione quest'anno? Ti sbilanci tu? Ma puntiamo a far sempre bene, no? Ecco poi qualsiasi campionato è difficile da vincere puntiamo a far bene, se i playoff saranno i playoff e se no no, se vinciamo il campionato ovviamente faremo una bella festa.